Salve a tutti, sto registrando questo video perché mi è stato chiesto, dopo che avete visto le mie foto su internet, del mio nuovo portatile quindi sarà una recensione breve perché non ho voglia di entrare nei dettagli anche perché io non sono un esperto di computer, anche se lavoro con i computer il mio precedente portatile era del 2013, comprato nel 2014 quindi sto parlando di fatto che ho fatto il dato generazionale dal 2014 al 2021 quindi potete immaginare che i miei commenti sono non quelli che vi aspettate benchmark e bla 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 perché sono inutili, li potete cercare tranquillamente perché dopo tutto il portatile potete trovare componenti e informarvi come anche ho fatto io quindi passiamo subito facendovi vedere il portatile, si tratta di uno slimbook come vedete io l'ho già brandizzato con i adesivi e prima che lo chiediate nei commenti una buona parte li ho comprati su internet o li avevo già a mia disposizione e il portatile come vedete in questo caso è brandizzato KDE, si dovrebbe poter vedere quindi questa è l'edizione specifica KDE che rispetto agli altri l'unica differenza che ha è questa incisione che una parte dei proventi sono donati alla KDE Foundation quando si compra questo portatile quindi la differenza con gli altri è che questo è uno slimbook pro x15 la cosa più interessante da notare è che mi ha stupito è quanto sia sottile come potete vedere è sottilissimo, pesa quasi un chilo e mezzo quindi per me è molto leggero perché il precedente ne pesava quasi 13 kg e il peccato per me è che non è un 17 pollici perché oramai non si fanno più il mio precedente era 17 e questo è un 15.4 ce l'ho fatta e quello che potete notare oltre al fatto che sia sottile e quello che mi ha stupito dopo aver notato le misure è la caratteristica interna della tastiera come vedete i tasti sono al livello del piano del portatile il mio vecchio portatile non era assolutamente così la cosa che mi crea problemi ad oggi tutto è portatile non è che sia leggero eccetera ma la tastiera retroilluminata perché il precedente era tutto scuro quindi i tasti erano scuri e la retroilluminazione quindi rendeva evidenti la lettera ma siccome la retroilluminazione è bianca su una tastiera grigia si rischia di non vedere quindi la retroilluminazione è utile in ambienti bui e non sempre possiamo dire ho scoperto che la slimbook ma lo sapevo già prima rilascia dei moduli per il sistema operativi linux perché questo di fabbrica tu gli puoi fargli dire con quale sistema operativo ci puoi installare io gli ho detto di non installarci niente e mi ci hanno installato KDE Neon io l'ho piallato e ci ho messo Seduction che è la distribuzione linux che utilizzo da sempre dal 2009 negli anni è cambiato nome ma è una Debian SID quindi non vi fate proprio quello del miglior sistema operativo compratevelo e ci mettete quello che vi pare perché questi ragionamenti non servono a niente ora, e a parte di nuovo quindi gli adesivi e questo è proprio la retroilluminazione dicevo, la slimbook rilascia dei moduli per linux c'è un modulo e sviluppo che permette di controllare lato software di sistema operativo la tastiera retroilluminata non è ancora pronto cioè c'è il repo su github ma non è il definitivo e quindi domani io potrei programmarmi e fare l'ipo che quando è giorno la tastiera sia spenta la retroilluminazione e quando è notte ovviamente si è accesa rilasciano anche altri due moduli uno è per l'ottimizzazione della batteria e del touchpad però per quello della batteria oramai è una cosa che sia GNOME e KDN nativamente tant'è oramai infatti non è più sviluppato da un paio di anni ma è disponibile sul launchpad e quello invece dei gesture serve per programmare il comportamento del touchpad che secondo me è una cosa che già fanno tutti i sistemi operativi e la caratteristica è che tipo devi associare se movimento verso destra o verso sinistra quindi uno vale l'altro da questo punto di vista non fatevi dei problemi e quindi bisogna abituarsi per me per il touchpad era soltanto destra o sinistra e non c'era neanche lo scolere era così questo vale due ma sono io che non sono abituoso ai portatili perché come vi state vedendo io sto parlando da un altro computer che è la workstation per me il portatile deve essere qualcosa che non sta fermo su un tavolo ma appunto deve essere portatile per questo lo schermo qui è bellissimo posso assicurarvi che da acceso si vede in una maniera proprio spettacolare dai che lo devo tenere molto basso come in realtà la nominazione la videocamera presente fa dei video di buona qualità non ha grossi problemi quindi per me la necessità da portatile perché per me è un portatile quindi si deve portare in giro deve essere quindi leggero funzionale e ci devo poter lavorare per il resto una workstation che ha potenza che anche se è un hardware meno potente di questo è più performante di questo ma è un dato di fatto perché questa qui non ha una scheda video dedicata quello che ho preso io è un ABD Ryzen perché ho dovuto aspettare dei mesi perché con la crisi covid c'è stato un calo di produzione di questi componenti e quindi da settembre l'ho potuto ordinare a febbraio ci ha messo un mese ad arrivare perché te lo assemblano quindi ho potuto scegliere 500 giga di SSD 32 giga di RAM e un ABD Ryzen perché io ci lavoro e se pensate che il mio vecchio portatile dà 8 giga di RAM con una NVIDIA 750 Ti e credo un i5 e la batteria che dura sulle 4 ore mi è durato 7 anni potete capire che a me di tante cose me ne frega proprio poco a me interessa che funziona quindi questo computer dimostra di funzionare la batteria per me dura oltre 10 ore l'ho stressato con dei videogiochi tramite Steam quindi Proton che erano per Windows eccetera e l'ho stressato anche con delle macchine virtuali con Windows tutto schermo con 10 giga di RAM dedicata e due core posso assicurare il portatile non ha avuto nessun problema anzi con il fatto che ha una bella SSD è rapidissimo ho potuto estrarre i file in un attimo e anche lo scaricamento si è dimostrato molto rapido rispetto al precedente ma parliamo di un portatile 7 anni fa quindi è grazie al cavolo l'altra cosa che mi stupisce è la qualità audio perché se con lo schermo lo tengo molto basso con velocità perché è spettacolare non mi serve tenerla a manetta l'audio lo devo tenere bassissimo perché è spettacolare è pulitissimo è molto forte il problema secondo me è che utilizza questa banda qui che qui ci gira l'aria ma serve anche a far uscire l'audio proprio del portatile e siccome lo tengo poggiato su una specie di tavolino l'audio ne risente però basta poco mettete qualcosa che ve lo solleva e ciao parlando quindi di prese potete vedere qui che ha una presa d'alimentazione HDMI una USB 3 e una USB si quelle dei cellulari però ovviamente nelle istruzioni c'è scritto grande quanto una casa non usatelo per ricaricare perché sarebbe una vera cavolata su quest'altro punto di vista vedete la presa Ethernet un'altra presa USB e la presa per le cuffie microfono che utilizza la stessa dei cellulari quindi potete utilizzare il stesso cavo senza un adattatore cosa che facevo prima e poi ovviamente c'è blocco portatile che per il cancio le classicissime cose per aprirle è molto semplice ci sono le viti qui che sono stupidissime trovate su internet altri che l'hanno aperto da te che in descrizione troverete una recensione di un anno fa o di quando era appena uscito di parte di uno dei contributor di KDE che proprio l'ha aperto e dice più o meno le stesse cose che ho detto io il computer lo so assicurare che è performante ma non perché è bello il portatile ma perché lo sono i componenti quindi questo anche se non ha scheda video dedicata perché se prendete la versione Intel potete avere l'invidia e posso assicurare che la Midirize fa un ottimo lavoro e quindi lo rende perfetto per tante altre cose vi metterò durante mentre parlo forse lo dovevo dire prima due screenshot che si trattano di un badge benchmark web fatto da Firefox Nightly quindi non la versione migliore che stressa lato WebGL e fatta da questo portatile e dal fisso di cui sto parlando il fisso di cui sto parlando ha 16 giga di RAM un i5 che oramai ha 3 anni e una scheda Nvidia 1060 con cui lavoro con 3 monitor tutto il giorno quindi possiamo dire che è più obsoleto di questo però va meglio ovviamente di questo qui ma grazie al cavolo di nuovo perché stiamo parlando di due cose che non possono essere paragonate visto che questo andrebbe sfidato con un portatile ma come ho detto io non posso fare una recezione con il mio vecchio perché parliamo di qualche generazione fa e non ho altri portatili e non sono un tecnico di benchmark e queste altre cose perché a me interessa che il dispositivo funzioni cosa che questo fa perfettamente quindi non è di nuovo in conclusione l'audio è spettacolare lo schermo è bellissimo la videocamera funziona la tastiera è silenziosissima e leggero tant'è che siamo portati tranquillamente sotto il braccio così e il fatto che ha una batteria così potente significa che tu lo ricarichi la sera e se vai in giro per conferenze che facevo io prima del covid non mi devo portare appresso il caricabatterie perché con 10 ore a voglia non ha giornata di conferenze quanta roba ci puoi fare certo ha il problema a cui ho avviutato prima che non ha la presa VGA ma oramai non si usano più nei portatili e naturalmente chi ha ancora proiettori con quella presa e non offre htmi significa che è un protettore molto vecchio quindi è un problema di poco conto vi faccio vedere qui altre foto altre cose del portatile ma lo potete vedere tranquillamente su internet e non credo che ci sia altro da aggiungere se non che funziona il fatto che sia così grigio non mi dispiace il fatto che sia sottile come se fosse proprio un quaderno mi piace perché posso assicurare che il mio precedente era un tuxedo ed era alto così era proprio una pagnotta gigante e questo non ha nessun problema non si scalda l'ho visto frullare nel senso andare a manetta con l'eventore soltanto quando c'è stato il benchmark e non quando ho giocato ad esempio o con le macchine virtuali mentre ovviamente facevo altro perché come ho detto con 32 giga ho preferito stare sul sicuro visto che per me un computer dura così tanto tempo come anche gli smartphone e gli altri ho preferito partire sul sicuro direttamente dall'inizio quindi vi saluto questo era una video recensione rapida perché non saprei che altro dire per le mie necessità è spettacolare è perfetto fa quello che deve perché per me come ho detto deve essere portatile perché chi si compra portatile che poi non lo alza mai dal tavolo ha sbagliato tutto nella vita sicuramente fa meglio a fare qualche altra cosa e farsi un fisso perché farebbe molto meglio perché questi portatile a proposito quindi di alimentazione si ricarica senza problemi nel giro di qualche ora la batteria l'ho vista dai video è posizionata su tutta questa striscia qui e qui si apre si possono vedere la RAM eccetera infatti se qui accende del retroilluminato si vedono le ventole ad esempio che si trovano qui non credo che ci sia altro da aggiungere fatto sta che è così liscio e pulito e col fatto che non è il suo sistema operativo per me è perfetto perché a me non mi interessa averci Windows come nel vecchio portatile non l'hanno neanche visto ne è probabilmente in cartolina se non al massimo in macchine virtuali per vari motivi e il portatile richiede un mese per arrivare questo qui è costato 1200 euro per via della combinazione dei componenti ma se voi andate sul sito potete proprio usare il configuratore e vedere quanto vi costa e avercelo come cavolo vi pare di nuovo è arrivato quindi imballato benissimo in una borsa in una scatola tutta sua con delle bustine protettive dei panni inseriti all'interno e all'esterno che io ho tolto immediatamente e quindi questo è quanto vi saluto ci vediamo al podcast settimanale che di solito è il martedì al limite il mercoledì e per il resto ci vediamo al prossimo video grazie a tutti